Arresti domiciliari per quattro persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di atti sessuali con minorenne e prostituzione minorile. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo su disposizione dell'autorità giudiziaria, il Pulfasce Deboli, che ha adottato il provvedimento cautelare concordando con le evidenze investigative rilevate dalla Compagnia dei Carabinieri di Partinico. I fatti risalgono all'estate del 2017, quando a Trappeto i militari della locale stazione notarono un'autovettura appartata su una strada sterrata a diecento in terreno agricolo, con a bordo un uomo anziano in compagnia di una bambina di 10 anni. La successiva attività di indagine svolta dai militari consentiva di rilevare elementi probatori utili a documentare che in più occasioni e in tempi diversi due soggetti, un bracciante agricolo di 61 anni e residente a Trappeto, un pensionato di 78 e residente a Balestrate, avevano compiuto atti e rapporti sessuali dietro pagamento in denaro con la bambina. Ad organizzare e gestire gli incontri sarebbe stata la madre della minorenne che traeva profitto incassando modeste somme di denaro tra i 5 e i 25 euro, facendo prostituire la propria figlia in alcune circostanze, partecipando le stesse ai rapporti sessuali in presenza della bambina. Anche il padre della minorenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, poiché essendo a conoscenza gli abusi commessi in danno della propria figlia minore, ometteva di intervenire direttamente e di avvisare le forze di polizia.